E' il giorno di San Sebastiano che è stato in vita un militare romano martire per aver sostenuto la fede cristiana, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e della Chiesa Cristiana Ortodossa e oggetto di un culto antichissimo e molto diffuso. Divenuto alto ufficiale dell'esercito imperiale fece presto carriere e fu il comandante della prestigiosa prima corte della prima legione di Stanza Roma per la difesa dell'imperatore. In questo contesto, forte del suo ruolo, poter sostenere i cristiani incarcerati, provvedere alla sepoltura dei martiri e diffondere il cristianesimo tra i funzionari e i militari di corte. Per il suo ruolo è il protettore della polizia locale ed è questa la messa celebrata oggi dall'arcivescovo Cipollone presso la Chiesa di San Rocco a Lanciano. La confraternita Maria Santissima della Pietà di San Rocco e San Sebastiano da oltre 30 anni organizza la festa del santo ogni 20 di gennaio, circa 70 i confratelli e le consorelle Nicola Cotellessa il priore, il vice Domenico Ciccocioppo, segretario Pietro Giancristofaro, l'economo Fiorino Giancristofaro. San Sebastiano è invocato anche come patrono delle confraternite perché si rileva in lui l'aspetto del soccorritore che interviene in favore dei martirizzati e dei sofferenti. Questo tipo di confraternita è infatti un preciso carisma assistenziale e gestisce direttamente con l'opera dei propri volontari una fitta rete di servizi sociosanitari di precisa ispirazione cristiana e cattolica.